Sicuramente essere spirituali va bene, ma capire il significato che sta dietro, non essere solo ribelli, non funzionerà e non è sano. Ecco perché quando io sono una persona spirituale devo avere una disciplina spirituale. Una persona religiosa ha delle pratiche religiose, lo chiarisco molto bene. Una persona religiosa ha delle pratiche religiose che vi piaccia o no, bisogna praticare. Invece una persona spirituale deve avere una disciplina spirituale. E questo invece è carente nella maggior parte delle persone spirituali. Senza disciplinarsi, le persone vogliono essere spirituali. E chiunque parla, che potete fare quello che volete ma si può essere spirituali, molte persone vanno appresso a quella persona. E adesso quando hai detto questo argomento è portato, quello di avere uno stile di vita in breve, automaticamente c'è una disciplina. Perché ricordatevi, la differenza tra la pratica e la disciplina è questa. La pratica vi viene imposta. La disciplina è qualcosa che voi invece vi assumete e decidete di fare. E il risultato poi è lo stesso. 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 Praticando ciò che voi ottenete e disciplinandovi lo ottenete ugualmente. C'è solo una piccola differenza. Un uomo che pratica avrà un sacco di sensi di colpa, frustrazione, rimpianto, rimpianto. Invece un uomo che si disciplina non avrà nessuna di queste cose. Ma esternamente chi pratica o chi si disciplina esternamente sono la stessa cosa. Invece se una persona è spirituale senza disciplina è più pericoloso. Non per se stesso ma per la società. E oggi giorno la spiritualità è questa. Sono spirituale senza nessuna disciplina. Non funziona così. È un'altra persona. È un'altra persona. Grazie.